Alt & Beyond, edizione Special Vip, ospiti di questa puntata, il cantante Paolo Mengoli, il conduttore Radio Rai, Alessandro De Geragis, il frate mago, padre Gianfranco Pioni, Alt & Beyond, edizione Special Vip, con Gabriella Suriani, giovedì, alle 21.30, in diretta, sulle pagine Facebook di Alt & Beyond. Grazie per la visione!